Raidi di furti nel cuore di Fano nel bel mezzo della notte scorsa nelle centralissime via Orco d'Augusto e Corso Matteotti Svaliggiati completamente due negozi, un'occhialeria di marchi prestigiosi ed un negozio di abbigliamento d'alta moda Obiettivi scelti con cura sia per quanto riguarda la merce sia per la facilità del colpo Ad entrare nel mirino dei ladri, scassinatori, l'ottica visiva a pochi passi dal caffè centrale Già oggetto di un furto l'11 febbraio scorso, meno di due mesi fa, ed il negozio Operliera in pieno corso Matteotti all'angolo con Via Nuti Ingenti danni alle infrastrutture e bottini per diverse migliaia di euro, anche se ancora in corso di quantificazione, per entrambe le attività commerciali Gli investigatori protendono per un'unica banda che ha pianificato meticolosamente i colpi e che si è coperta la fuga Al riparto dalle telecamere poco presenti, a dire il vero, nella zona del centro All'ottica visiva, presumibilmente attorno alle 3 del mattino, hanno dapprima neutralizzato il sistema d'allarme Attraverso una schiuma poluterana espansa del tipo usato per gli infissi Che è stata sparata dentro la sirena prima di forzare la porta d'ingresso In modo che, allo scattare dell'allarme, il suono fosse quasi del tutto inavvertibile E poi, una volta tagliata la parte mobile della saracinesca, forzare la porta d'ingresso e dar a fare tutte le montature degli espositori e dei cassetti È stato un gioco da ragazzi, dentro e fuori, in pochi minuti Stessa sorte da operliera, lì nemmeno la fatica di neutralizzare l'allarme Un colpo alla seratura della porta d'ingresso nel Vico Nonuti E una volta dentro, svuotato il negozio di tutti i capi appesi Tranne gli appendini lasciati lì per terra e sugli stendini, quasi a testimoniare il furto avvenuto Probabilmente questo per utilizzare dei grossi sacchi dove mettere i vestiti Già appartenenti alla collezione estiva, quindi molto leggeri Una manciata di minuti anche qui, per poi svanire nell'unla Quale sia stato il primo obiettivo colpito? Difficile dirlo Di certo sicuramente c'è che la gente di passaggio, i residenti e i colleghi di lavoro dei negozianti Sono tutti sconcertati ed allibiti per la spregiudicatezza e la sfrontatezza dei ladri Ed il senso anche di impotenza assoluta che questi furti lasciano ai cittadini Occhi sgranati e facce allibite anche tra i passanti In pieno centro, così sotto gli occhi di tutti, ci dicono in perecchi Non si era mai visto nulla di simile Non si vive più così, in questo modo, affermano altri Basta trovarsi per strada e non sai che cosa ti capita Ora su entrambi i furti indagano gli uomini del commissariato di Fano Coordinati dal dirigente Stefano Siretti e coadiuvati anche dall'unità di polizia scientifica Che in entrambi i negozi ha effettuato questa mattina i rilievi alla ricerca di eventuali tracce lasciate dai malviventi Grazie 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 Grazie